Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio è intervenuto alla conferenza di lancio del progetto Esmart City Med che si è tenuta all'auditorium Petruzzi di Pescara. Di Pangrazio, che è anche coordinatore del gruppo di lavoro sulle calamità naturali per la Callare e membro del Comitato Europeo delle Regioni, ha parlato di una vera e propria rivoluzione culturale ormai in atto, che investe l'Italia e la nostra Regione, capofila del progetto insieme ad altri 10 Paesi. Si tratta di un cambiamento di approccio radicale rispetto al territorio, che grazie all'introduzione delle nuove tecnologie permette di migliorare la vita dell'uomo. Come il Consiglio regionale ha sottolineato Di Pangrazio, seguiamo con il massimo interesse il tema dei disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici e per questo ritengo sia utile che un territorio si doti di una tecnologia smart che consenta di segnalare e preavvisare ciò che può accadere, perché la risposta migliore è anticipare l'evento. Per il Presidente Di Pangrazio l'obiettivo è costruire una grande struttura tecnologica che faccia dialogare l'uomo con il mondo circostante, dove la città diventa una grande piattaforma a beneficio dei cittadini. In questo senso il territorio deve seguire un percorso di continua innovazione ed è indispensabile, sottolineato Di Pangrazio, coinvolgere i giovani che dovranno abituarsi a vivere in un ambiente completamente diverso. rispetto a quello attuale.